salve a tutti lettori di androidblog.it oggi stiamo provando per voi la fotocamera o meglio la videocamera di un tablet adj con processore intel e per ricapitolare un po' le specifiche che poi troverete anche nella video recensione è una fotocamera da 2 megapixel che registra filmati in hd 720p diciamo che le pecche di questa fotocamera sono abbastanza a partire dalla mancanza della messa a fuoco e della possibilità di zoomare durante il video andiamo subito a vedere come si stabilizza l'immagine allora facciamo un pan veloce e come si adatta ai cambiamenti di luce anche se comunque non ce n'è molta